Bene, ciao a tutti amici e ben ritrovati in quest'ultima parte del tutorial in cui finiamo la nostra panoramica delle basi di Python e questo vi sarà propedeutico per andare a capire meglio tutti gli altri tutorial che ho in programma di presentarvi. Facciamo un accenno alla programmazione d'oggetti e parliamo delle classi. Le classi non sono altro che un pattern di programmazione che viene utilizzato appunto per rappresentare e istanziare degli oggetti. Possiamo considerare una classe come se fosse uno stampino. Noi quando ad esempio facciamo dei biscotti prepariamo uno stampino, ci mettiamo dentro l'impasto e una volta che questi escono dal forno possiamo stampare con lo stesso stampino quanti biscotti vogliamo sostanzialmente. Se noi andiamo a vedere questo blocco di codice qui vediamo che ho creato già una classe di tipo persona. Quindi in questo caso una persona che tipo di attributi ha? Ne ho rappresentati solo due per semplicità quindi il nome e il cognome. Avrei potuto aggiungere ad esempio anche il codice fiscale giusto per fare un esempio. E poi possiamo anche dire che azioni compie una persona? In questo caso ho solo rappresentato l'azione di tipo saluto. Quindi andiamo a eseguire questo blocco di codice. Vediamo che in primo luogo da questa rega qui andiamo a creare il nostro oggetto. Quindi andiamo a richiamare la classe di tipo persona e li passiamo come parametri Mario e Rossi che sono il nome e il cognome se vedete. Questo che qui è rappresentato come un metodo rappresenta in realtà il costruttore cioè il metodo che viene utilizzato per inizializzare il nostro oggetto a partire dalla classe che abbiamo specificato. Quindi li passiamo sempre obbligatorio il parametro self. Adesso spieghiamo che cos'è. E poi successivamente il nome e cognome ma questo potremmo anche arricchirlo in questo modo. Potremmo dire ad esempio codice fiscale lo definiamo come default none per non renderlo obbligatorio per non spaccare il nostro codice. Però mettiamo quindi cf e in questo caso potete vedere che ho aggiunto un attributo nuovo al nostro soggetto. Quindi se qua li andiamo a concatenare e li dico più self.cf In questo caso spacco proprio il codice, non è più coerente come prima ma è solo per farvi capire in modo interattivo come funziona. Quindi lo eseguo E vedete che ho aggiunto un attributo. Se qui li mettessi dentro oppure lo aggiungo direttamente da qua una nuova stringa Vedete che questa stringa viene aggiunta proprio perché ho creato un nuovo attributo. Ora vi spiego rapidamente l'ultima cosa cioè cosa serve questo parametro di tipo self. Serve per memorizzare tutti gli attributi e per condividere la memoria fra tutti i metodi della classe. Quindi qui possiamo vedere appunto che in fase di inizializzazione abbiamo memorizzato tutti gli attributi che ci interessano per poi nel metodo andare a stamparli proprio perché li abbiamo già memorizzati in questo modo. Ora concludiamo e parliamo delle librerie e di come importarle. Per concludere parliamo delle librerie. Le librerie non sono altro che dei componenti software magari anche sviluppati da terze parti che ci servono per estendere le funzionalità del nostro linguaggio e per non implementare da zero quelle funzionalità. Queste possono essere già integrate nell'ambiente di sviluppo Python oppure le dobbiamo installare vedete qui ho riportato un esempio tramite il package manager cioè con l'istruzione pip install e il nome della libreria. In questo caso c'è l'esempio di NumPy. Diverso è per l'esempio qui sotto che è date time questo è già integrato all'interno di Python quindi vi voglio far vedere quindi senza l'import della libreria in questo caso io voglio solo stampare banalmente qual è la data di oggi la data è l'ora quindi se io do invio potete vedere che qui mi dice mi dà l'errore mi dice date time non è definito proprio perché non riesce a ritrovare questa libreria con la funzione today se invece io vado a esplicitare che voglio importare date time do l'invio e come potete vedere stampo sia la data che l'ora allo stesso modo è possibile anche andare naturalmente a scriversi le proprie librerie attraverso un file esterno quindi torniamo nella main e vi voglio far vedere che in questo caso ho realizzato una classe quadrato che non fa nient'altro che andare naturalmente a inizializzare l'oggetto come abbiamo visto prima e poi ritorno al risultato del perimetro e dell'area quindi torniamo al nostro notebook intanto cominciamo a eseguire vedete che io ho importato dalla mia libreria personale che è il nome del file e poi nello specifico ho importato la classe quadrato quindi mi sono andato giusto anche per fare un ripasso rispetto a quello che di cui abbiamo parlato prima quando parlavo delle classi quindi mi sono andato a istanziare un quadrato l'ho chiamato new quadrato con un lato 6 e poi vado a stamparmi il perimetro quindi perimetro uguale a new quadrato vado a chiamare il metodo del perimetro e allo stesso modo vado a chiamare il metodo area per stampare l'area bene con questo abbiamo concluso come sempre vi invito a commentare nel caso ci fossero delle parti poco chiare o comunque se avete bisogno di ulteriori delucidazioni e ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti